Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi parleremo di Animali Fantastici, i crimini di Grindelwald con la recensione di un nuovissimo volume di Schermi Incantati che mi è stato gentilmente inviato da Panini Comics che ringrazio sempre per la collaborazione. Ragazzi, i primi volumi li trovate già recensiti tutti sul canale. Partiamo da questo volume qui che era dedicato ai personaggi e ai luoghi di Animali Fantastici di Harry Potter. Il secondo volume parlava delle creature magiche sia di Harry Potter che di Animali Fantastici. Il terzo volume che trovate qui invece parlava degli oggetti magici e questa volta invece Panini Comics ha dedicato un intero volume ai crimini di Grindelwald dove troviamo tutte le nuove creature, le bacchiette, i personaggi e tantissimi allegati come al solito. Io direi di dare subito un taglio alle ciance e di andarlo a sfogliare assieme immediatamente perché è davvero ricco di tantissime novità. Ed ecco qui il nostro volume di questo blu spettacolare, mi piace un sacco questa combinazione di colori e queste scritte in oro che risaltano tantissimo. Troviamo in copertina i nostri personaggi principali, Giovane Silente, Newt, Tina e Grindelwald e nella parte inferiore troviamo le creature che invece sono l'Asticello, lo Snaso, il Baby Snaso e l'Oguri. Una cosa che ho notato e che spero si riesca a vedere è che nella parte superiore troviamo una scena del circo con un graforn a quanto pare e dentro questa gabbia troviamo lo Zuvu. Questa è una scena che credo non si sia neanche vista nel film e che sarebbe stato bello vedere ma che purtroppo non c'è stata data questa possibilità visto che tutta la parte del circo è durata davvero troppo poco secondo me. Ma adesso cominciamo subito a sfogliare il nostro volume e scopriamo cosa nasconde al suo interno. Sempre bellissime le illustrazioni, tutte le trame riportate all'interno ed ecco qui, schermi incantati, i crimini di Grindelwald e troviamo già la carrozza con i testral che mi è piaciuta un sacco soprattutto nel film e tutta la scena del prologo davvero molto molto bella. E qui abbiamo il nostro sommario che è abbastanza lungo non vi annoierò leggendo ogni singola voce ma adesso andremo a scoprirle man mano. Qui abbiamo una piccola introduzione con un riassunto per riprendere da dove eravamo rimasti quindi una sorta appunto di riassunto del primo film di Animali Fantastici. Ed ecco la prima cosa che veniamo a sapere dal film ma che avevamo già dedotto alla fine del primo Credence è ancora vivo. Ma ecco che cominciamo con i crimini di Grindelwald e abbiamo la fuga. Ecco qui i primi documenti che andiamo poi a spulciare nella lettura con l'arresto tutti i documenti redatti dal Ministero della Magia americano e poi abbiamo qui nella pagina accanto il nostro Antonio animale che già mi sta simpaticissimo Qui è in rosso anche se nel film credo fosse blu come il Funko Pop Magari ha una sorta di abilità camaleontica che non c'è stata ancora spiegata però mi è piaciuta tanto e abbiamo Antonio con le fauci truse e Antonio con le fauci aperte proprio come il Funko Pop che abbiamo in due versioni Ecco qui il primo allegato, anzi due abbiamo la scena che sarebbe dovuta essere proprio nel film, nella parte iniziale, subito dopo il prologo e invece è stata completamente eliminata che è quella della presentazione del libro di Animali Fantastici e dove trovarli Ebbene ragazzi sì, era stata girata, abbiamo diverse immagini ma non sono state utilizzate spero che saranno messe nella versione stesa del Blu-ray abbiamo anche il volantino della presentazione del libro e addirittura una copia dell'invito quindi era stato fatto tutto per bene ma purtroppo niente di fatto Ecco poi qui che passiamo al Ministero della Magia Inglese e abbiamo anche in allegato un biglietto, una sorta di pass visitatore molto molto carino ma ancora qui un altro allegato, questo libro davvero pieno troviamo la descrizione di Tisius Scamander e poi questa sorta di diploma di magizoologo che è stato assegnato a Newt per quello che ha raggiunto, per gli obiettivi raggiunti nel primo film in poche parole qui troviamo il primo incontro tra Lita, Newt e Tisius e andando ancora avanti ecco che scopriamo meglio il personaggio di Lita e anche del giovane Silente ed ecco qui una copia del bigliettino che viene dato da Silente a Newt il bigliettino da visita di Nicolas Flamel dove è riportato l'indirizzo francese e a proposito di Francia ecco che troviamo un altro allegato che è quello della mini cartolina da Parigi che Tina ha inviato evidentemente a Quini in questo caso non è compilata però è molto molto fedele all'originale ma purtroppo in miniatura poi passiamo a parlare di animali, dello scantinato di Newt della sua assistente Banti e troviamo qui una pagina piena di adesivi di creature fantastiche che naturalmente non utilizzerò mai però sono molto molto belli soprattutto gli snasi uno sull'altro qui torniamo a fare conoscenza ai vecchi amici come appunto Pickett che in questo film purtroppo si è visto poco come poco si è visto anche lo snaso mi sarebbe piaciuto che fossero stati più presenti però abbiamo scoperto nuovi animali come il Kelpi e l'Oguri che a me è piaciuto tanto soprattutto il Funko Pop devo essere sincero qui abbiamo un approfondimento sulla cura degli animali e poi ancora personaggi come Quini, Tina e poi ecco che passiamo alla cosa che più mi piace sono le arti grafiche qui abbiamo addirittura la copertina che è stata realizzata per il libro Animali Fantastici copertina realizzata dal duo Mina Lima come tutte le grafiche che secondo me alla visione di questo film saranno rimasti parecchio delusi visto che quasi tutto il loro materiale non è stato utilizzato avevano addirittura realizzato un bar, un pub con tantissime grafiche, vetrate, volantini, menu che è stato totalmente tagliato dal film quindi credo ci siano rimasti abbastanza male e questo è un volantino una sorta di copertina di una rivista che ritrae Newt Scamander ma che anche in questo caso mai vista, mai apparsa nel film almeno io credo nel caso mi sbagliassi fatemelo sapere nei commenti potrebbe essermi sfuggito poi abbiamo un dettaglio della Parigi del 1927 che è stata ricreata come era stata ricreata anche la New York del 1925 ecco qui un approfondimento sul nostro Grindelwald col suo ciondolo che Noble Collection ha già prontamente realizzato e che sicuramente acquisterò in futuro abbiamo quella sorta di bong magico che utilizza il nostro Grindelwald per avere le sue visioni per mostrare le sue visioni ed ecco tutti i suoi scagnozzi tra virgolette ma abbiamo anche la controparte buona come Yusuf e Grimson e poi parliamo del Circo Circo che purtroppo non è stato neanche approfondito più di tanto un circo che io aspettavo da due anni che volevo vedere con davvero tanta tanta attesa ma che purtroppo mi ha lasciato un po' la mare in bocca nota carina di questo volume troviamo il biglietto di ammissione al Circo una piccola chicca e poi questa scena qui che purtroppo non ricordo neanche di aver visto nel film e che sembra molto molto interessante abbiamo anche shopping sfrenato quindi dei gadget relativi al Circo questo ci fa capire quanto sia stato approfondito il lavoro di Mina Lima qui abbiamo anche altre botteghe ragazzi tutte cose che a me sono assolutamente sfuggite del film e che fortunatamente trovano spazio in questi volumi che gli rendono giustizia ancora un allegato per il nostro Circo Orcanus eccolo qui troviamo la locandina dello spettacolo che sarebbe molto interessante andare ad analizzare passo passo ma che naturalmente la cosa che salta prima all'occhio è lo stupefacente Maledictus la nostra Nagini che sicuramente nei prossimi film troverà più spazio abbiamo qui il proprietario del Circo e poi i nuovi animali come lo Zuu uno dei miei preferiti nel nuovo film il Maledictus che viene messo tra le creature e poi passiamo anche al Ministero della Magia francese che aveva anche questo un grandissimo potenziale ma che è stato sfruttato poco perché ha trovato poco spazio mi è piaciuta tantissimo questa fontana che si trasforma in questa sorta di ascensore a differenza del Ministero della Magia inglese che invece si ha accesso tramite una cabina del telefono molto bello anche comunque questo escamotage della piazza mi è piaciuto parecchio questo è ancora un approfondimento dedicato al Ministero della Magia e tra i nuovi animali troviamo il Matagot Matagot che ho scoperto essere comunque un animale che fa parte della mitologia francese quindi andate a dare magari uno sguardo su Wikipedia perché è un animale pescato proprio da lì e poi troviamo ancora questi piccoli draghi con la coda infuocata e la fuga dal Circus Arcanus e ragazzi la scena del tetto che praticamente è stata tagliata anche in questo caso questa scena qui dove troviamo Credence che libera il suo Obuscurus tramite la sua mano anche questa non l'abbiamo vista un po' di spazio è stato trovato all'interno di questo volume anche per la mezza elfa Irma che purtroppo non avrà vita lunga all'interno del film e poi Hogwarts del 1927 con il giovane Silente Lita che ricorda i suoi anni passati a scuola gli alunni con le divise degli anni venti gli uffici la lezione di Silente contro il Molliccio che ricorda naturalmente quella di Lupin e poi qui ecco che troviamo ancora andando avanti i ricordi di Lita sempre ad Hogwarts speravamo di capire perché Newt fosse stato espulso a causa sua ma ancora mi sa che è troppo presto e altro spazio dedicato anche a Nicolas Flamel e poi ecco che troviamo un approfondimento sulle bacchette magiche su tutte le nuove bacchette che naturalmente Nobo Collection anche in questo caso non ha perso tempo a produrre e poi si passa al cimitero cimitero dove troviamo il bellissimo monologo di Johnny Depp che ha ammaliato un po' tutti e poi tutta la fase finale fino ad arrivare alla morte di Lita davvero molto molto carino questa volta nessun allegato finale peccato mi sarebbe piaciuto trovarlo ma non è stato inserito nulla anche se comunque il volume resta molto ricco di contenuti e adesso che abbiamo finito di sfogliarlo assieme ragazzi sono super curioso di sapere cosa ne pensate voi a me è piaciuto davvero tanto credo che sia il secondo in classifica tra i quattro volumi nella mia personale classifica di gradimento al primo posto resta questo volume qui ma subito dopo secondo me viene questo perché mi piacciono tantissimo gli allegati e soprattutto il mio preferito è quello lì dell'invito alla presentazione del libro di animali fantastici che troviamo all'interno e che mi sarebbe tanto piaciuto vedere all'interno del film questo ci fa capire quante cose sono state eliminate da questa pellicola io vi lascio nelle schede la recensione al film e al mio personale parere secondo me lo ribadisco sono stati fatti troppi tagli a questa pellicola e si vede soprattutto dagli allegati da tanti dettagli che troviamo all'interno di questo volume cose che sono state omesse nel film e che sicuramente avrebbero aiutato a comprendere meglio la storia quindi secondo me è un volume molto molto interessante che andrebbe preso anche solo per andare ad integrare degli aspetti che nel film sono stati tralasciati e ragazzi vi ricordo che il prezzo è di 25 euro il prezzo di copertina ma che lo trovate sicuramente scontato sotto in info box nel link che vi lascerò ad Amazon bene come vi dicevo fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate mi piacerebbe che si aprisse un dibattito in merito che ognuno dicesse la sua sempre nel rispetto di tutti e ragazzi io a questo punto vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine colore il video vi fosse piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace commentate, condividete iscrivetevi al canale seguitemi anche su Instagram perché questo libro ve l'avevo già mostrato in anteprima nell'unboxing che avevo fatto nelle storie di Instagram quindi antonio.seria bene detto questo non vi resta ancora una volta che ringraziarvi di ricordarvi di controllare sempre l'info box e noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità ciao 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 ciao